L'inchiesta che ha travolto l'ormai ex presidente Tobia Binetti della Municipalizzata dei Trasporti di Bari va avanti e ora coinvolge anche altri due componenti del Consiglio di Amministrazione. Giuseppe Avantaggiato e Nicola Cipriani sono indagati e accusati di falso in bilancio. Nel fascicolo, coordinato dal sostituto procuratore Francesco Bretone, adesso compare anche il nome di un imprenditore, Pietro Di Paola, responsabile legale dell'OMA Service. Risponde di concorso impeculato, reato che viene contestato anche a Binetti, un filone dell'indagine che riguarda i conti dell'azienda partendo proprio dall'esame di alcune fatture presentate dalla OMA Service, azienda barese specializzata nella manutenzione dei mezzi. Binetti e l'imprenditore sono accusati di impeculato perché il primo avrebbe dato formalmente il via libera al pagamento delle somme relative ad alcune fatture per un valore complessivo di quasi 300.000 euro. Nonostante, scrive il PM, nell'avviso a comparire, l'iter amministrativo non fosse stato completamente espletato. Come dire, le fatture sono state emesse dall'OMA e pagate dall'AMTAB, nonostante l'ordine di lavorazione non fosse mai stato autorizzato o in alcuni casi sia stato firmato dopo il pagamento.